Abbiamo vinto una partita faticosa contro il Club Italia questa sera, contenti per il risultato, un po' meno oggi per il gioco espresso. Abbiamo vinto facilmente il primo set, poi ci siamo un pochino adagiati, forse abbiamo pensato che fosse facile, abbiamo iniziato a sbagliare molto. Il Club Italia è una squadra quadrata, una squadra che ha una buona organizzazione muro difesa, battono bene e ci hanno messo in difficoltà. Poi siamo andati un pochino in ansia, abbiamo giocato in modo un po' disordinato nella fase break, poi va bene, alla fine abbiamo vinto e quindi va bene così.